Un'area agricola di 130.000 m2 a Monte Labate nel Pesarese, sottoposta a vincolo paesaggistico, era utilizzata da una società operante nel settore edile come discarica di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, tra cui terre, rocce da scavo miste a scarti di demolizione, imparti affioranti dal terreno, materiale ricavato dall'attività di demolizione edilizia e recupero. Il terreno è stato sequestrato dal reparto operativo aeronavale di Ancona della Guardia di Finanza con l'ausilio della sezione aerea di Rimini. I due responsabili della società sono stati denunciati per realizzazione di discarica abusiva in area agricola. Gli investigatori, coordinati dall'autorità giudiziaria, stanno esaminando i documenti per accertare l'eventuale coinvolgimento di soggetti che abbiano smaltito illecitamente i rifiuti nell'area. Al vaglio anche l'aspetto di concorrenza sleale. La società, evitando di sostenere gli ingenti cose di smaltimento, poteva offrire tariffe concorrenziali. Le attività investigative delle Fiamme Gialle sono durate circa sei mesi, dal novembre del 2018 a giugno del 2019, con pedinamenti da terra e dall'alto. La consultazione di voluminosa documentazione ambientale reperita presso gli enti pubblici interessati hanno consentito agli investigatori di identificare gli autori dell'attività criminosa e accertare la totale assenza di autorizzazioni ambientali per le opere svolte. L'area in questione, oggetto di riqualifica ambientale, sul quale in origine dovevano essere eseguiti operazioni di riempimento e livellamento con apporto di terreno vegetale, dal 2005 è stata invece, secondo l'accusa, illecitamente adibita a vera e propria discarica abusiva da parte della società, attraverso il costante abbandono di ingentissime quantità di rifiuti speciali, costituiti da terra e rocce da scavo, miste a scarti di demolizione e in parte anche pericolosamente affioranti dal terreno.